Ciao, benvenuto al canale YouTube Ventilazione Sicura. Mi chiamo Diego Perfettibile, molti mi conoscono come il signore delle ventole e da molti anni mi occupo di ventilatori, sono cresciuto con intorno queste macchine perché ho creato questo canale di YouTube. In realtà è un po' la mia televisione privata, dove cerco di diffondere dei concetti, dei consigli su come trarre il massimo dai ventilatori industriali. Ho pensato a questo canale per tutti quelli che sono degli utilizzatori, cioè chi è magari responsabile dell'unutenzione e ha in gestione diversi ventilatori all'interno dei suoi impianti. Molto spesso infatti queste macchine vengono un po' dimenticate, abbandonate, anche maltrattate ogni tanto. E perché tanto funzionano? Vanno comunque nel tempo senza creare grossi problemi. Finché un giorno non ce la fanno più ed, esausti, bloccano tutto l'impianto. E allora lì tutti quanti si accorrono di quanto era importante quel insignificante ventilatore. In questo canale troverai alcuni video dove spiego come ottimizzare la manutenzione dei ventilatori o come migliorarne le prestazioni o in generale come fare a far durare molto di più tramite piccoli accorgimenti quelle che sono tutte le varie macchine, le ventole che hai installate all'interno dei tuoi impianti. Per darti il benvenuto a questo canale ho pensato di regalarti una piccola guida che trovi cliccando nel link che trovi qua sotto. Ti auguro quindi una buona visione, guarda pure i video che trovi qua sotto nella galleria. A presto, mai più, guasti improvvisi, il signore delle ventole!